Buongiorno e benvenuti nel nostro primo spazio informativo come di consueto dedicato alla notizia del giorno. Ciclabile della discordia sta suscitando non poche polemiche attrapani la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare Dante Alighieri. Tante le critiche all'opera che sembrano entusiasmare tanti cittadini. Vediamo i dettagli nel servizio. Un'autentica levata di scudi contro la nuova pista ciclabile in fase di realizzazione nel lungomare Dante Alighieri. I lavori disposti dal comune di Trapani stanno sollevando un vespaio di polemiche. Le critiche corrono sui social con i tanti commenti di chi non condivide per niente la scelta di riservare un itinerario per chi va in bici. Parlando senza troppi mezzi termini di un'opera assolutamente inutile che toglie spazio alla circolazione dei mezzi e che potrebbe avere ripercussioni importanti sul traffico veicolare. Per il conseguenziale restringimento della strada per ricavare i due metri e mezzo destinati alla ciclabile. Tra i argomenti portati avanti dal fronte dei contrari, oltre alla riduzione della carreggiata e quindi anche dello spazio per sorpassare, c'è anche il venir meno dei posteggi alla litoranea. Il che in estate con le spiagge affollate potrebbe finire con l'ingolfare le strade limitrofe. Ma tra i commenti che si leggono sui social ci sono anche quelli che rimandano alla funzionalità di un percorso che, a detta dei contrari, userebbero in pochi quasi nessuno, considerati i numeri ancora piuttosto bassi di chi usa la bicicletta a Trapani. Ma c'è anche il fatto che un'infrastruttura del genere non dovrebbe assolutamente limitarsi ai soli due chilometri di litoranea da piazza Vittorio Emanuele alla ciclabile di Erice, ma andrebbe inserita in un progetto più organico per l'intera città. Ed oltre agli aspetti che riguardano la circolazione viaria dopo l'allestimento del cantiere, ci sono poi le critiche sulla reale necessità di realizzare una pista ciclabile, piuttosto che dare priorità ad altre opere ritenute prioritarie, come la sistemazione delle strade, ma anche la scerbatura, i problemi d'acqua, la presenza di rifiuti che invadono il centro urbano e tutto ciò che non va a Trapani. Insomma, il messaggio all'unisono si può sintetizzare così. Con tutte le cose che ci sono da fare, che bisogno c'era di realizzare una pista ciclabile alla litoranea? Questa era la nostra notizia del giorno, ci rivediamo tra pochissimo con tutte le altre notizie di oggi. Un omicidio da chiarire, continuano le indagini sull'assassinio di Salvatore Di Salvo. La vittima stava cercando di fuggire, ma chi e perché lo ha ucciso? Far West pronto soccorso, l'appello dell'Ordine dei Medici di Trapani sulla sicurezza dei sanitari in prima linea e sulla necessità di sburocratizzare il lavoro dei medici di medicina generale. In memoria di Carla Accardi, inaugurata stamattina la targa dedicata alla pittrice trapanese che visse la sua infanzia in centro storico. Salviamo i boschi, erice impegnata nella pulizia del patrimonio boschivo, chiama a sostegno volontari e cittadini. E per lo sport Serie C, Catania e Turris penalizzate, arrivano le sanzioni per le due società, nel frattempo il Trapani si prepara alla sfida contro il Messina. Palermo è emergenza, continua il nostro focus sulla situazione emergenziale che riguarda i rifiuti in Sicilia. Oggi ci soffermeremo sulla città di Palermo. Ben ritrovati in diretta con il nostro notiziario. Apriamo con la cronaca, l'omicidio nelle campagne di Grisi nel Palermitano. La vittima, Salvatore Di Salvo, stava tentando di scappare. Sentiti amici e parenti. Al momento un agguato avvolto dal mistero. Il servizio. Un omicidio avvolto ancora dal mistero. Campagne di Grisi nel Palermitano. Qui è stato ucciso Salvatore Di Salvo. 69 anni di Borgetto. L'omicidio si è consumato in una zona isolata e deserta, ma soprattutto lontana da occhi indiscreti. Come se l'assassino sapesse dove colpire, senza il timore di essere scoperto, un omicidio premeditato. Di Salvo ha provato a scappare, ma è stato raggiunto dalla ferocia del suo killer. L'uomo era a terra, privo di vita, accanto alla portiera, praticamente nascosto dalla fitta vegetazione. Cosa è successo? Perché Di Salvo è stato ucciso? Gli elementi a disposizione degli inquirenti sono pochi, non ci sono telecamere e al momento non ci sono nemmeno testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo. Sono stati sentiti parenti e amici per provare a ricostruire gli ultimi giorni della vittima se avesse ricevuto minacce o avuto alterchi o altro tipo di episodi che possano essere degenerate. I PM hanno disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni, da cui potrebbero emergere altri indizi come, ad esempio, il calibro dei proiettili. Di Salvo aveva piccoli precedenti, storie del passato, e non risulterebbero collegamenti con la criminalità organizzata. Era fratello di uno degli indagati nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia il 6 maggio scorso in cui morirono 5 operai, ma anche questo nulla avrebbe a che fare con l'omicidio. I carabinieri del Comando Provinciale di Trapani intensificano i controlli a tutela dell'ambiente e scattano denunce e sequestri. Vediamo. Arriva il servizio. I carabinieri in difesa dell'ambiente e il Comando Provinciale di Trapani hanno infatti intensificato i controlli per contrastare lo sversamento e lecce dell'abbandono di rifiuti sul territorio e i risultati non sono saltati ad arrivare. Aderici militari dell'arma hanno sequestrato un'area di circa 20.000 metri quadri in località Torre Bianca. Lì era stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di materiali pericolosi e rifiuti di ogni genere, carcasse di auto e roulos, lastre di Ethernet, arretti nonché spavviciti e rifiuti edilizi. Ora indagini in corso per individuare i responsabili dello scempio. L'area sequestrata è stata affidata al proprietario del terreno Mazzara del Vallo, in località Borgata Costiera. I carabinieri forestali hanno invece fermato e controllato un autocarro carico di rifiuti che, addentrandosi in aperta campagna, stava scaricando in una vecchia cava di smessa i rifiuti che stava trasportando terre e rocce da scavo, tubazioni per irrigazione, residui di lavorazione in plastica e sfardiciti. Le persone che erano a bordo dal mezzo sono state identificate e denunciate. Si tratta di un 76enne, di un 64enne e di un 61enne. Tutti i mazzaresi. L'autocarro è stato sequestrato come l'intera area. Sei anni di carcere, la pena inflitta dal Tribunale di Marsala ad un muratore accusato di abusi sessuali su una bambina di 9 anni. Sei anni di carcere, la pena inflitta dal Tribunale di Marsala ad un anziano muratore accusato di abusi sessuali su una bambina di 9 anni. La stessa condanna richiesta dal pubblico ministero Roberto Piscitello durante la sua requisitoria. I fatti risalgono a novembre del 2021. Secondo il racconto della piccola, l'uomo l'avrebbe baciata sulla bocca e avrebbe anche cercato di avere contatti più intimi. Lei però è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Il giorno dopo, la bambina confidò a due insegnanti quello che le era accaduto, sottolineando che i genitori avevano già sporto denuncia e entrambe le docenti sono state ascoltate dal Tribunale. Il muratore si era regato a casa della vittima per comprare le uova quando si sarebbe reso responsabile degli abusi. A difendere l'imputato, l'avvocato Diego Tranchida, una sentenza inaccettabile dichiarato in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della suggestionabilità della bambina come accertato dalla consulenza della difesa, ma solo quella del PM che invece la escludeva. Tale contrasto andava sciolta semmai con una perizia trattandosi di due esperti di pari qualifica. Andiamo avanti con la cronaca. Un pantesco di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato un isolano di 28 anni con precedenti di polizia per il ricreato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Deteneva Mario Aneasic nella sua abitazione diventata il punto di riferimento degli assuntori di droghe leggere. I militari dell'arma, nel corso di un servizio antidroga, insospettiti dal grande via vai di persone dall'appartamento dell'indagato, decidevano di fare ingresso per una perquisizione. Hanno così rinvenuto due involucri contenenti rispettivamente 4,5 grammi di marijuana e 2 grammi di ascice. Estesa la perquisizione anche al garage di pertinenza, i carabinieri ritrovavano altri tre involucri in cielo fanno contenenti marijuana del peso complessivo di 175 grammi e sette involucri contenenti ascici del peso complessivo di 115 grammi, oltre a un bilangino di precisione e il materiale per il confezionamento. Tratto un arresto a seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato rinchiuso delle carceri di Trapani. E adesso cambiamo argomento. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani, Barraco, lancia un appello urgente la sburocratizzazione per i medici di medicina generale e la tutela dei medici del pronto soccorso dalle violenze. Dettagli nel servizio. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani, Vito Barraco, ha indirizzato una lettera al presidente della Federazione Nazionale dei Medici e degli odontoriadri Filippo Anelli, richiamando l'attenzione su tre questioni di primaria importanza per la categoria medica. La necessità di ridurre il carico burocratico per i medici di medicina generale, l'importanza di portare avanti l'iter di depenalizzazione dell'atto medico e poi l'incremento degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario. Barraco ha evidenziato come i medici di medicina generale siano spesso travolti da complessi addempimenti burocratici che sottraggono tempo prezioso alla cura dei pazienti, vedendoli costretti i medici a districarsi tra norme di difficile interpretazione e procedure burocratiche eccessive. Per il presidente dei medici trapanesi è necessario un processo di sburocratizzazione che permetta di ridurre il peso degli oneri amministrativi e aumentare il tempo dedicato agli assistiti. Barraco poi ha puntato il dito contro le politiche sanitarie di contenimento della spesa che impongono ai medici rigide limitazioni nella prescrizione dei farmaci. La mancanza di cure adeguato, ha sottolineato, oggi può portare a complicanze gravi, domani con un conseguente aumento dei costi ospedalieri. Un altro tema urgente sollevato da Barraco riguarda la depenalizzazione dell'atto medico. È fondamentale proseguire l'iter per la depenalizzazione dell'atto medico, ha dichiarato il professionista, affinché i medici possano esercitare la loro attività con serenità, senza il timore costante di procedimenti giudiziari per atti svolti nell'interesse della salute del paziente. Il rischio di essere penalmente perseguiti per decisioni cliniche complesse spesso presa in condizioni critiche, sottolinea il Presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani, mina la tranquillità e l'efficienza dei medici nel loro lavoro quotidiano. La terza emergenza, sottolineata, riguarda la crescente violenza ai danni dei medici, soprattutto nei pronto soccorso. Episodi di violenza, sia fisica che verbale, contro il personale sanitario che sono in aumento, in particolare né idea e né triage. È una situazione inaccettabile, ha dichiarato Barraco. Questi professionisti lavorano quotidianamente, con dedizione e coraggio, e non possono essere lasciati soli di fronte a queste minacce. Il Presidente dei Medici trapanesi ha sottolineato che nonostante le raccomandazioni del Ministero della Salute per prevenire gli atti di violenza, le misure finora adottate non sono state sufficienti. Per cui sarebbe urgente agire per garantire la sicurezza dei medici e di tutto il personale sanitario. Ecco perché viene chiesto un intervento concreto delle forze dell'ordine per rafforzare la vigilanza e prevenire ulteriori aggressioni. Adesso per noi una breve pausa, ci rivediamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro notiziario. In memoria di Carla Accardi, inaugurata stamattina la targa dedicata alla pittrice trapanese che visse la sua infanzia in centro storico. Salviamo i boschi, è ricempegnata nella pulizia del patrimonio boschivo, chiama a sostegno volontari e cittadini. Serie C, Catania e Turris penalizzate, arrivano le sanzioni per le due società, nel frattempo il Trapani si prepara alla sfida di venerdì contro il Messina. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Dopo circa 20 anni oggi è stato adottato il nuovo piano regolatore generale del comune di Valderice. I servizi. Dopo un iter piuttosto complicato e faraginoso e dopo aver rispettato tutti i tempi di validazione, l'architetto Donatello Messina, commissario d'acta nominato dall'assessorato regionale con delibera commissariale, ha adottato il piano regolatore generale unitamente al regolamento unico regionale e alla variante ambientale strategica. Per il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, si tratta di un passo determinante per la conclusione di questo iter che durava da anni e che ha visto l'impegno costante dell'attuale amministrazione. L'incarico, affidato dal primo cittadino al professionista redattore, professor Marcel Pidalà, avvenne nel 2019 e adesso ha trovato la sua definitiva adozione. A questo punto il piano sarà reso pubblico e visionabile a tutti i cittadini. Dopodiché seguiranno 60 giorni per avanzare eventuali osservazioni. Successivamente verrà consegnato in assessorato regionale per la sua definitiva attuazione. Il sindaco, Francesco Stabile, ha tenuto a ringraziare l'assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Cardella, per aver seguito le procedure e l'ufficio tecnico comunale. Il primo cittadino di Valderice si è poi detto certo che questo piano, atteso da anni, sarà per Valderice un elemento di sviluppo concreto e determinante e che il territorio avrà modo di crescere anche economicamente secondo criteri e regole urbanistiche. Inaugurata stamattina la targa in memoria di Carla Accardi, la celebre pittrice trapanese a cento anni dalla sua nascita. Stamattina, in occasione del centenario della nascita di Carla Accardi, celebre pittrice trapanese, è stata inaugurata una targa commemorativa nel palazzo di Viabellini dove l'artista è cresciuta. L'iniziativa promossa dall'Università Tito Marrone di Trapani fa parte di una serie di celebrazioni per onorare l'eredità artistica di Accardi, figura chiave dell'arte contemporanea italiana. Carla Accardi per noi rappresenta quello che viene detto genius uloci, cioè una delle persone più rappresentative della cultura trapanese a livello nazionale e internazionale, come dimostra l'esposizione che è stata fatta a Roma appunto dal mese di marzo mi pare al mese di giugno delle sue opere. Questa iniziativa è stata diciamo un'idea della Libera Università di Tito Marrone di Trapani che quest'anno compie 18 anni quindi è matura diciamo e per questo abbiamo voluto ricordare questo grande personaggio come già abbiamo fatto con Tito Marrone. Abbiamo deciso di apporre la targa in questa casa perché da questa abitazione nel 1944 Carla Accardi iniziava il suo percorso artistico in quanto faceva domanda all'Accademia di Belle Arti di Palermo e in calce annotava l'indirizzo via Stazione 2 oggi via Bellini e sarebbe appunto questa abitazione che sta alle mie spalle. Accardi ha partecipato più volte alle Biennale di Venezia e le sue opere sono esposte in musei come il Saint-Pompidou di Parigi la Tête Moderne di Londra e il MoMA di New York. Trapani le ha dedicato una mostra nel 1998 Erich le ha titolato l'anno scorso il presso della Scuola dell'Infanzia di Napola il primo in Italia che porta il nome della nota pittrice facente parte dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Pagotto ed ancora oggi continua a renderlo omaggio con iniziative come la retrospettiva al Palazzo dell'Esposizione di Roma. Siamo in ritardo nel ricordare non solo per iniziativa splendida dell'Università della Terza Età i figli migliori di questa terra cosa vogliamo fare come città di Trapani assieme all'assessore Dalì vorremmo se riusciamo a definire un'intesa ma siamo prossimi con il Libro Consorzio a fare una sessione museale tanto sull'immobile comunale il Polo del San Domenico non dico quello del Libro Consorzio per una questione di rispetto nei confronti di un'altra istituzione e una di queste sessioni come arte contemporanea a dedicarla proprio a Carlo Accardi adesso ci spostiamo a Favignano dove il sindaco Francesco Forgione ha proceduto alla nomina di due nuovi assessori comunali vediamo la giunta del lega di torno al completo con le nomine disposte dal sindaco Francesco Forgione sono entrati a fare parte dell'esecutivo dell'arcipelago l'ingegnere Tommaso Larosa e Mariangela Corvitto con la nomina dell'assessore Mariangela Corvitto al bilancio e l'assessore Tommaso Larosa ai lavori pubblici che si aggiungono all'assessore Bevilacqua al turismo e al vice sindaco Galuppo si completa la giunta municipale per affrontare questo ultimo anno di attività amministrativa si tratta di due scelte puramente tecniche l'assessore Corvitto è una funzionaria del comune di Alcamo esperta in bilancio e materie finanziarie e l'ingegnere Tommaso Larosa residente da anni a Favignana appunto è un esperto tecnico che dovrà accompagnare questo ultimo anno di lavori di cantieri che noi speriamo diano un volto nuovo e una qualità diversa al territorio delle nostre isole i due nuovi assessori Tommaso Larosa e Mariangela Corvitto subentrano ai dimissionari Monica Modica e Antonino Gentile lo spirito con cui ha accettato questo incarico è quello di fare qualcosa o tutto quello che mi sarà possibile nei confronti dei cittadini cioè con tutte le loro esigenze con tutte le loro necessità con tutte le loro voglie ma nella considerazione però che tutto questo potrebbe essere fatto se c'è condivisione l'elemento fondamentale di questa mia partecipazione è quello di dire condividete con me e con tutta la Giunta questo mio lavoro affinché possa essere il più proficuo possibile sono onorata di venire a fare un servizio qua in questo arcipelago metto a disposizione la mia professionalità tanti anni nella pubblica amministrazione una breve esperienza già precedentemente in un altro comune come assessore e sono di poche parole ma di fatti perché è dai frutti che si riconosce l'albero e quindi spero di poter dare dei buoni frutti che possano essere apprezzati adesso la pagina dell'economia rimodulazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sicilia 2021-2027 approvati 615 milioni per tecnologie digitali ed energia pulita la Commissione Europea ha dato il via libera alla rimodulazione delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sicilia 2021-2027 per un totale di 615 milioni di euro in linea con il piano step dell'Unione Europea questa decisione ha come obiettivo il sostegno di investimenti strategici in tecnologie digitali avanzate e soluzioni per l'energia pulita e sostenibile l'approvazione da parte della Commissione Europea rappresenta l'ultimo step formale necessario per la riprogrammazione delle risorse il Governo Regionale della Sicilia su proposta del Presidente Renato Schifani aveva varato la rimodulazione ad agosto 2024 introducendo due nuove priorità investimenti in tecnologie digitali e innovazioni un assenziamento di 369 milioni di euro per favorire lo sviluppo e la produzione di tecnologie digitali tecnologie pulite e sostenibili un investimento di 246 milioni di euro destinato alla promozione dello sviluppo della produzione di tecnologie ecocompatibili settori questi che sono considerati chiave per ridurre la dipendenza dell'Europa da fornitori esterni all'Unione allineandosi perfettamente con gli obiettivi strategici del piano step rivolto alla creazione di un'economia europea più autonoma e resiliente il presidente della regione sicilia Renato Schifani ha espresso soddisfazione per l'approvazione del piano possiamo passare subito all'azione per trasformare la Sicilia in un polo produttivo d'avanguardia in settori strategici per l'Europa e l'Italia il nostro obiettivo è rendere l'Europa autosufficiente in filiere industriali cruciali collaboreremo con le associazioni datoriali per massimizzare questa opportunità puntando sulle eccellenze regionali domenica 13 ottobre si terrà ad Erice una giornata di pulizia nei boschi del monte il servizio domenica 13 ottobre i cittadini di buona volontà daranno una ripulita da alcuni sentieri dei boschi del monte a partire da quello delle mura e limopuniche l'iniziativa è organizzata dall'associazione Live Charity assieme a tanti altri gruppi e volontari con il patrocinio del comune di Erice ed in collaborazione con Econord la passeggiata ecologica al monte per accogliere i rifiuti abbandonati fa seguito all'iniziativa tenuta nelle scorse settimane lungo la strada dei Difali in quell'occasione i volontari hanno raccolto tanti rifiuti e riempiendo oltre 50 sacchi di spazzatura più tutto il materiale recuperato da dietro le curve e i muretti della strada dei Difali adesso si salirà di quota per pulire i boschi di Erice dove purtroppo si trova di tutto l'appuntamento sarà a Porta Trapani alle 8.30 dopodiché alcune squadre andranno verso le mura ciclopiche altre scenderanno in direzione della lecceta per recuperare tutti gli ingombranti gettati lungo il passo dei Monaci si tratta di un punto con delle pendenze impegnative per tirare su tutto il materiale e gli ingombranti presenti ma a dare una mano ci sarà anche lo speleo team Trapani per tirare quanta più roba possibile utilizzando corde moschettoni ed imbracature librando così l'ambiente di materiale che chissà da quanti anni si trova abbandonato tra gli alberi ma ci sono anche tante cartacce bottiglie e spazzature di ogni genere e tipo da raccogliere e per farlo servono tante mani di buona volontà ma soprattutto c'è bisogno di cuori che amano davvero erice e l'ambiente non solo a parole ma con fatti concreti nell'associazione Live Charity Francesca Fontana promotrice dell'iniziativa ha ringraziato le associazioni e tutti gli ericini che hanno aderito alla giornata di raccolta di rifiuti invitando quanto più persone ad essere presenti domenica per dare una mano alla passeggiata ecologica per i sentieri del monte e per gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 20.30 in replica alle 23 la differita del match Treviso Basket tra Pani Shark incontro valevole per la seconda giornata del campionato di A1 adesso ci fermiamo qui vi aspetto tra pochissimo con la pagina sportiva Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio in Serie C il Catania ha trovato continuità venerdì sera il derby Trapani-Messina vediamo Nonostante qualche punto perso di troppo il Trapani è riuscito a risalire diverse posizioni in classifica il merito va a tutta la squadra che con il passare dei giorni sta crescendo esponenzialmente nelle ultime cinque giorni giornate Granata hanno raccolto nove punti con due vittorie e tre pareggi numeri che sono secondi soltanto a quelli fatti registrare dal Benevento dal Monopoli e dal Potenza nello stesso periodo dieci punti si tratta di statistiche indicative poiché emerge un cambio di marcia rispetto alle prime giornate e allo stesso tempo testimoniano l'alto livello di questo campionato di Serie C il Catania nelle ultime cinque uscite ha conquistato otto punti gli stessi del Lavellino che dopo il cambio in panchina in dirigenza ha svoltato il trend e si trova a sei lunghezze dall'Avetta un campionato ancora aperto e che per l'ennesima volta non risparmia scenari di penalizzazione un punto sottratto alla Turris e al Catania per la vicenda delle fideiussioni inibiti per 45 giorni Pelligra, Grella e Piedepalumbo una penalizzazione che nel prossimo mese di aprile a stagione conclusa potrebbe essere decisiva per la classifica designata la terna arbitrale di Trapani e Messina partita valida per la non aggiornata del campionato di Serie C Girone C l'arbitro della gara sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini coadiuvato da Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia quarto ufficiale sarà Davide Galiffi della sezione Via Alghero e questo pomeriggio al T-Club di Via Torre Arsa a Trapani Justin Robinson e Facundo Lescano si scambieranno le maglie in un evento particolare vediamo il servizio uno è il capocannoniere del Girone C di Serie C con sei reti l'altro è un pilastro del quintetto di Cocciore Pecia Facundo Lescano e Justin Robinson si scambieranno le maglie al T-Club di Via Torre Arsa questo pomeriggio alle ore 18 un evento che darà la possibilità ai tifosi e agli appassionati di incontrare i due atleti e di scattare delle foto con loro l'attaccante argentino è riuscito a sbloccarsi e ha realizzato 5 gol nelle due partite precedenti alla sfida con il Sorrente venerdì sarà uno dei protagonisti del derby con il Messina che si terrà al provinciale alle 20.30 per Robinson invece un avvio di stagione incredibile contro la Virtus Bologna alla prima di campionato il playmaker statunitense ha giocato 36 minuti realizzando 27 punti e chiudendo la gara con un più 29 di valutazione questo pomeriggio un incontro da non perdere e proseguiamo a parlare di Trapani Calcio è un buon periodo di forma quello del Trapani che ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 giornate sono stati penalizzati invece il Catania e la Turris vediamo ottimo punto contro il Benevento quello ottenuto domenica dal Messina che ha trovato il suo quarto pareggio in campionato 1-0-0 dal profilo mentale che accresce senz'altro l'autostima dei messinesi che però faticano a ritrovare la via della vittoria solamente un successo dopo 8 turni di campionato i tre punti risalgono alla terza giornata in casa nel 4-1 contro il Taranto poi solo segni X e sconfitte avvio di stagione non semplice in casa Messina dai nodi societari fino al campo mister Giacomo Modica aveva rassegnato le dimissioni dopo il pari in rimonta subito contro la Casertana poi ritirate dopo un lungo confronto con squadra e società 7 punti i peloritani non riescono a trovare ancora una continuità di rendimento che il Catania pare aver trovato con la seconda vittoria di fila dopo l'1-0 al Monopoli ecco il 3-1 esterno sul campo della Casertana che aveva sbloccato il risultato con Mancini al diciottesimo gli etnei hanno risposto con Guglielmotti al ventisettesimo e nella ripresa con Gimenez al settantanovesimo e inglese in pieno recupero venerdì sera il primo derby siciliano della stagione alle 20.30 il calcio d'inizio di Trapani-Messina sabato pomeriggio Catania-Altamura continua il nostro focus sulla situazione emergenziale che riguarda i rifiuti in Sicilia oggi ci soffermiamo sulla città di Palermo vediamo un'emergenza ancestrale atavica Palermo e i rifiuti un binomio strutturale che va avanti da decenni quartieri soprattutto periferici che ogni anno devono fare i conti con l'emergenza rifiuti e allora le immagini che vi mostriamo sono sempre attuali molte zone del capoluogo annaspano tra l'immondizia con liquami e topi che diventano abitanti della strada la domanda come diceva il grande Lubrano sorge spontanea perché non c'è una parola fine a questa emergenza la risposta arriva diritto alla RAP l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città mezzi guasti mancanza di personale e discarica di bello lampo in parte satura eccolo il cuore dell'emergenza immondizia a Palermo e poi l'altro grande problema che riguarda la differenziata Palermo è maglia nera ogni anno con i cittadini che non rispettano giorni e ritiri possiamo chiederle in queste prime ispezioni mi passi il termine tra virgolette cosa avete trovato guardi molto semplicemente le frazioni non vengono rispettate ecco perché abbiamo mandato questa campagna sugli adesivi vogliamo sensibilizzare perché se la frazione non vengono separate dall'utenza diventano frazioni indifferenziate sempre quindi valorizzazione zero della cosa e poi la città di Palermo ha una differenziata anche e stiamo parlando che quasi in una zona dove da anni si fa la differenziata non è il primo mese e allora dice vabbè il primo mese la gente si deve abituare qua è anni che si fa la differenziata campagne pubblicitarie scuole istruzione e poi alla fine cosa succede vi abbiamo fatto vedere ad esempio con questi sacchetti è tutto indifferenziato ci vorrebbe essere la plastica con la plastica il cartone col cartone il vetro col vetro invece alla fine la gente cosa fa per comodità per non lo so per non voglio usare altri termini butta tutto insieme e contamina le frazioni e infatti molti cittadini palermitani aggirano la differenziata guardate queste immagini questo è l'esempio tipico del rifiuto non ritirato non conforme qua dovrebbe essere indifferenziato come vede plastica cartoni cart e diciamo questa è praticamente classica spazzatura normale questo è l'esempio tipico di quello che facciamo cioè questa è proprio carta evidente tutto tutto materiale assolutamente momentabile e qua non siamo in una zona periferica come vedete siamo in una zona questo è il problema in piccolo quello che riscontriamo ogni giorno e che poi succede che dicono ma la rappa arriva non ritira ritira tutto insieme certo non a che fare ora vedremo che cercheremo in qualche modo di sensibilizzare le persone strade trasformate in discariche soprattutto nei periodi festivi quando molti operai della rap sono in ferie così anche in estate con i turisti che quando arrivano a Palermo hanno questo benvenuto